Il pensiero all'azione politica di Antonio Gransci nel periodo che va dal 1926, anno dell'arresto da parte del regime fascista, fino al 1937, quando morì per il peggiorare delle sue condizioni di salute. Sono state al centro di una lezione magistrale si è tenuta a Nuoro dal professor Giuseppe Vaca, filosofo e presidente dell'Istituto Gransci, a sollecitare il professor Vaca agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo scientifico Enrico Fermi di Nuoro. L'incontro è stato ospitato nella sala consigliare del comune. I saluti dalla città sono stati portati dal sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi, in sala anche Bacchiseo Porru, dirigente del liceo Fermi, e ex parlamentare del PC Giorgio Macciotta. Gli studenti in liceo, prima di incontrare il professor Vaca, hanno svolto un lavoro preparatorio sulla figura di Antonio Gransci, promosso dal Dipartimento di Storia e Filosofia. Una serie di dibattiti con esperti del pensiero gransciano e la visita a Ghilarsa, la casa natale del fondatore del Partito Comunista Italiano, tappe che hanno consentito ai ragazzi una full immersion nel pensiero di Antonio Gransci, la cui capacità di analisi non solo dei fenomeni politici del suo tempo, ma anche la visione del futuro, non finiscono di sorprendere. Un politico il cui pensiero paradossalmente per anni è stato conosciuto più all'estero, dove rimane uno degli autori italiani più tradotti in assoluto che in Italia, anche per ragioni politiche e per l'evoluzione che ebbe ad un certo punto la sua vicenda all'interno dello scacchiere del comunismo italiano e internazionale. Partendo dal suo saggio Vita e pensieri di Antonio Gransci, 1926-1937, il professor Vaca ha risposto alle domande degli studenti. Tra le fasi politiche ricostruite dallo studioso, quella della successione in Urssi a Lenin con l'ascesa di Stalin e Bukharin, che propugnavano l'idea che il comunismo si potesse sviluppare anche in un solo paese. Una tesi che Gransci non condivideva dal momento che riteneva che ci fossero le condizioni in altre nazioni come l'Italia per una rivoluzione. Le analisi di Gransci erano etterodosse rispetto al pensiero che si stava affermando nelle internazionali comuniste ormai dominate dai sovietici. Sacrificio personale, l'impegno politico, la produzione filosofica di quegli anni cruciali per la storia moderna costituiscono l'eredità che Gransci ha lasciato alle nuove generazioni.